Luigi Napoli, un grandissimo successo nella tua cava dei Tirreni, 5.000 preferenze, un risultato atteso? Un risultato importante, un risultato del partito del Popolo della Libertà, un risultato fatto di duro lavoro dalla classe dirigente e da due persone che erano formalmente candidate, Luigi Napoli ed Alessandro Schillaci. Grazie ai Cavesi, grazie alla gente delle frazioni. E' davvero un risultato isperato, le mie 3.600 preferenze, considerando i quasi 1.000 voti presi a Vietri in netta controtendenza con il risultato vietrese locale in cui ha vinto il sindaco Benincasa di sinistra, è davvero un risultato per me importante. Grazie ai Cavesi e grazie innanzitutto anche ai vietresi. Per chiudere le sensazioni, dopo questa vittoria, quali saranno i progetti per la città di Cava dei Tirreni che Luigi Napoli vedrà uno dei suoi maggiori referenti? Io ed Alessandro Schillaci lavoreremo uniti per svoltare e cambiare quindi pagina, cercheremo di cambiare questa amministrazione mandando a casa Gravagnolo perché veramente si è dimostrato un sindaco che non rappresenta Cava dei Tirreni. Poco senso delle istituzioni, poco lavoro, poco risultati per Cava. Alessandro Schillaci, i progetti di un giovane come te per la città di Cava dei Tirreni? Come diceva l'amico Luigi Napoli, il nostro progetto è innanzitutto mandare a casa il sindaco Gravagnolo, è ormai un sindaco impopolare. Altri progetti siamo sicuri che torneremo grandi con Cava protagonista, come diceva lo slogan usato dall'onorevole Edmondo Cirelli.